Il 5 febbraio è stata la prima giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare e per questo abbiamo convocato tutti i portatori di interesse il 5 febbraio, quindi tutti gli attori della filiera agroalimentare, dai produttori agricoli alla trasformazione, cioè l'industria alimentare, fino ai consumatori, ai ristoratori, alle multi utility che gestiscono e smaltiscono i rifiuti, alle ASL che presidiano la sicurezza alimentare. Ognuno ha qualcosa da dire sullo spreco alimentare e per la verità ognuno sta facendo qualcosa, quindi è stato un utilissimo primo incontro, confronto, in alcuni casi anche scontro per dire la verità, con però un obiettivo comune, un denominatore comune, prevenire gli sprechi alimentari. Come funziona? Intanto c'è stato questo lancio, peraltro l'iscrizione alla partecipazione è aperta sempre, tutti possono partecipare a questi stati generali, a questa consulta più precisamente e ci siamo dati delle tappe, che hanno 5 come numero di base, 5 febbraio giornata nazionale, 5 giugno ci sarà una prima tappa dove presenteremo i risultati, tutti quando sono iscritti non solo hanno detto cosa fanno, ma cosa vorrebbero si facesse per ridurre, prevenire, recuperare anche in alcuni casi ciò che si spreca, ma che è ancora buono. 5 novembre a Ecomondo ci sarà una seconda tappa dove faremo un quadro e metteremo degli obiettivi e poi ci sarà la seconda giornata nazionale dove cominceremo a misurare e a trarre delle conseguenze e naturalmente in mezzo l'impegno del governo, questo è un piano del ministro, a prescindere dal governo e dal ministro dovrà essere portato avanti e quello poi di facilitare dal punto di vista normativo sia il recupero che la prevenzione.